Secondo me all'inizio dell'anno giocavo bene, mi sentivo meglio, però è vero che adesso il mister mi dà un po' di continuità e mi sento meglio. La continuità è la parola chiave, ti serviva quella continuità? Sì, sì, io direi di sì. L'obiettivo per questi play-off? Ovviamente arrivare più fino in fondo, però vediamo, perché non è facile partire subito dal primo turno, però faremo di tutto. Il girone d'andata hai fatto benissimo, l'hai detto tu poco fa, anche sette gol. Poi però c'è stato questo lungo periodo di appannamento, solo la continuità o è mancato qualcosa? Ma è difficile adesso rispondere così, c'è un po' di fattori, sicuramente partendo da me stesso. Poi non ti so dire se mi è mancato quello o questo. Il fatto è quello che sì, all'inizio dell'anno fino all'andata ho fatto sette gol, poi adesso niente. In futuro Tuniov resterà a Pescara, Tuniov guarda il calcio europeo, qual è la tua idea? Non so, manco io adesso, penso solo a far bene adesso queste partite, fermo e poi play-off, poi vedremo. Ti chiedo un'ultima cosa sul tuo ruolo in campo. Potesse scegliere Tuniov in un sistema di gioco, qual è il ruolo dove pensa che può rendere meglio? Non lo sa manco Tuniov, dove metto il mister, io sono sempre... Più mezz'ala o più un trequartista? Dipende dalle partite, mi piace parla a piede, a volte fare qualche dribbling, però anche da mezz'ala a volte mi sento meglio. Grazie a tutti.